Il sforzo del sistema, il sforzo del sistema, il sforzo del sistema, il sforzo del sistema! Il sforzo del sistema! Oh! La rinuncia! Ragazzi, è stata una manifestazione di Sfittini, ma siamo da Sfittini, sicuramente i giornali si prenderanno in continuo a raggiungere! Il sforzo del sistema, 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 il sforzo del sistema E siamo a fuori ragazzi, siamo a noi in Italia, siamo a noi, siamo a noi! Che serve tutti, tutti! Dai, va a scuola! E non deve subire ulteriorità, grazie! E non deve subire ulteriorità, grazie! Basta, voi tagli, avete voto il cazzo! Sperai! Grazie! Oh, oh, oh! Eeeh, eeeh, eeeh... Oh, ti han messo in giro... No! No, come sei la lazione? No, come sei la lazione? Perché non siamo in giro? Tutti uniti? Tutti uniti? No! Non si andranno a voler nessuna nuova versione! Voglio guardare tutti tutti i tuoi sbattiti! Buon appetito! Grazie a tutti! 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 Nessuna bandiera! 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 Siamo tutti quanti studenti! Siamo tutti quanti studenti! Siamo tutti quanti studenti! Siamo tutti quanti studenti!